benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo del java collection framework che è un insieme di classi che ci permettono di andare a operare su collezioni di oggetti e permettono di fare una serie di azioni e di operazioni in maniera molto efficiente e intuitiva cos'è java collection framework sostanzialmente è un insieme di interfacce che definiscono dei tipi di dato astratti delle classi che implementano queste interfacce con diverse strategie e di alcuni algoritmi ad esempio degli algoritmi di sort il java collection framework è composto da classi e interfacce che si trovano dentro il package java.util inizialmente classi e interfacce in questo framework trattavano degli oggetti ma a partire da java 5 ovvero con l'introduzione dei tipi generici tutte le classi e interfacce all'interno di questo framework utilizzano dei tipi generici le interfacce che troviamo nel java collection framework sono quelle illustrate in questa immagine abbiamo sostanzialmente due grossi gruppi di interfacce quelle che si chiamano contenitori di gruppo e quelli che si chiamano dei contenitori associativi i contenitori di gruppo sostanzialmente hanno l'obiettivo di contenere dei gruppi di oggetti mentre invece i contenitori associativi hanno la proprietà di contenere non semplicemente dei gruppi di oggetti ma bensì delle associazioni tra chiavi e valori quindi quando io vado a inserire degli elementi non inserisco un elemento molto semplice come faccio nei contenitori di gruppo ma vado ad inserire una coppia chiave valore che poi mi permette di andare a fare una ricerca del valore data la sua chiave mentre invece nei contenitori di gruppo io inserisco dei gruppi li ricerco li estraggo eccetera guardando un po' più nel dettaglio le interfacce che riguardano i contenitori di gruppo vediamo che esiste un'interfaccia di base che si chiama iterable che è l'interfaccia che abbiamo già menzionato parlando dell'ereditarietà che permette di fare una scansione degli elementi che si trovano all'interno di un contenitore ovviamente questa interfaccia è molto generica e ha come unica caratteristica un metodo che permette di andare a costruire un iteratore una interfaccia che deriva da iterable è l'interfaccia collection che permette di fare operazioni un po' più complesse in particolare permette di andare ad aggiungere degli elementi all'interno di una collezione l'interfaccia collection non ci dà nessuna operazione aggiuntiva quindi possiamo andare a scandire gli elementi tramite le proprietà che ereditiamo dai iterable ma non abbiamo altre caratteristiche aggiuntive collection e poi l'interfaccia di base per altre tre interfacce fondamentali l'interfaccia 7 queue e liste l'interfaccia liste permette di andare a definire un gruppo di elementi che hanno una caratteristica importante si trovano in un certo ordine per cui io posso andare ad accedere agli elementi che si trovano all'interno di una lista tramite un indice un po' come si può fare con gli array la differenza è che le liste sono dei contenitori dinamici quindi possono automaticamente espandersi per andare a ospitare più elementi abbiamo poi le code in cui gli elementi sono memorizzati in un certo ordine e quindi io posso poi accedere agli elementi memorizzati nel contenitore tramite quell'ordine e gli insiemi insiemi che sono sostanzialmente dei contenitori che hanno la caratteristica di non poter contenere elementi duplicati abbiamo poi una variante degli contenitori degli insiemi che sono insiemi ordinati in cui gli elementi vengono memorizzati in un certo ordine e poi abbiamo l'altro gruppo quello dei contenitori associativi in cui l'interfaccia di base l'interfaccia map per l'appunto va a definire una corrispondenza tra una chiave e un valore e una sua sotto interfaccia che si chiama sorted map che permette di mantenere gli elementi ordinati attenzione che sorted map mantiene gli elementi ordinati in base alla chiave non in base ai valori stessi queste sono interfacce oltre a queste interfacce il nostro framework delle collections fornisce una serie di classi che le implementano per cui ad esempio abbiamo arraylist e linkedlist che implementano l'interfaccia list abbiamo hash set che implementa l'interfaccia set tree set che implementa l'interfaccia sorted set per quanto riguarda le mappe abbiamo hash map che implementa l'interfaccia map e tree map che implementa l'interfaccia sorted map questa è una panoramica e se vogliamo avere una corrispondenza più adatta ai dettagli che sono forniti possiamo andare a vedere che date le tre interfacce principali ovvero set, list e map abbiamo diverse tecniche di programmazione, diversi tipi di dati che possono essere utilizzati per andare a implementare quelle interfacce delle hash table, degli alberi bilanciati, degli errori dimensionabili, delle liste linkate delle hash table più delle liste linkate e queste sono diverse varianti per cui se andiamo a prendere ad esempio l'interfaccia list abbiamo due classi che implementano arraylist e linkedlist che rispettivamente usano come tecniche un array ridimensionabile un po' come quello che abbiamo visto in alcuni nostri esercizi di esempio e una lista linkata ovvero una lista di elementi che sono collegati l'uno con l'altro se andiamo a vedere le mappe abbiamo le mappe che utilizzano le hash table e le mappe che utilizzano degli alberi bilanciati iniziamo a parlare dei contenitori di gruppo ovvero tutta quella famiglia di interfacce e quindi poi anche di classi che fanno capo all'interfaccia collection collection è un'interfaccia che rappresenta un numero variabile di elementi che sono contenuti all'interno del contenitore attenzione che quando parliamo di elementi come al solito facciamo riferimento a oggetti e quindi dentro la collezione non vengono memorizzati gli oggetti in se stessi ma vengono memorizzati dei riferimenti agli oggetti esattamente come avveniva ad esempio per gli array in cui non memorizzo un oggetto dentro l'array ma nell'array memorizzo un riferimento all'oggetto l'interfaccia collection non definisce in alcun modo e quindi non fornisce nessun metodo che possa supportare questo tipo di vista il fatto che gli elementi siano meno ordinati che ci possono essere meno riduplicati quindi è un'interfaccia molto generica che permette di andare a gestire un insieme, un gruppo di oggetti ovviamente implementa iterable e normalmente tutte le classi che implementano l'interfaccia collection hanno due metodi un metodo senza parametri e un metodo che riceve una collezione il secondo metodo che cosa fa? crea una collezione e poi aggiunge al suo interno tutti gli elementi che stanno nell'altra collezione attenzione, di nuovo, visto che stiamo parlando di riferimenti non duplica gli oggetti ma semplicemente copia i riferimenti agli oggetti memorizzati nella collezione di partenza quali sono i metodi che l'interfaccia collection fornisce? questi sono quelli principali abbiamo il metodo size che ci dice quanti elementi sono presenti un metodo contents che ci permette di andare a verificare se un elemento è presente all'interno della collezione il metodo add che ci permette di aggiungere un elemento il metodo remove che ci permette di eliminare quell'elemento oltre a questo abbiamo tanti altri elementi ad esempio il metodo exempli che ci permette di capire se è vuoto che sostanzialmente consiste nell'andare a verificare ad esempio se l'interfaccia size è vuota add all, remove all che sostanzialmente vanno ad aggiungere e cancellare tutti gli elementi prendendoli da un'altra collezione, clear che permette di andare a cancellare gli elementi tutti quelli che stanno all'interno di una collezione e toarray che sostanzialmente prende gli elementi di una collezione e genera un array mettendoli tutti dentro ovviamente abbiamo anche il metodo iterator che in realtà non è proprio dell'interfaccia collection ma viene ereditato dall'interfaccia iterable come faccio ad utilizzare una collezione o meglio una classe che implementa un'interfaccia collection? immaginiamo di avere una collezione di persone ricordatevi che tutte le interfacce del framework collection sono dei tipi generici e quindi devo andare a specificare il tipo degli elementi che stanno all'interno della collezione posso utilizzare ad esempio una linked list a questo punto una volta che una collezione posso utilizzare il metodo add per aggiungere un nuovo elemento il metodo size per andare a capire quanti elementi sono presenti all'interno della nostra collezione e ovviamente posso andare a utilizzare questa collezione per andare a riempire un'altra collezione ad esempio qui ho utilizzato un preset e posso andare a prendere tutti gli elementi che stanno in una collezione e riempire un array con questi elementi ricordatevi che stiamo parlando di riferimenti un'altra importante interfaccia che si trova nel gruppo dei contenitori di gruppo è quella che si chiama list list può contenere elementi duplicati e soprattutto prevede che l'ordine di inserimento sia preservato quindi gli elementi vengono inseriti come al solito ad esempio utilizzando il metodo add che è definito nell'interfaccia collection dopodiché io posso utilizzare l'ordine di inserimento per accedere agli elementi stessi ovviamente io posso anche utilizzare altri metodi per definire un punto di inserimento quindi invece di inserire alla fine del mio gruppo di elementi posso inserire in testa o in qualunque altra posizione quindi il concetto fondamentale che viene introdotto dall'interfaccia list rispetto all'interfaccia collection è per l'appunto l'idea che c'è una posizione e quindi posso utilizzare la posizione per andare a recuperare gli elementi ma anche volendo per andare inserli i principali elementi che possiamo trovare all'interno dell'interfaccia list sono get, set, add però con l'indice e remove anche questo con l'indice ricordatevi che add remove erano due metodi presenti già nell'interfaccia collection ma avevano soltanto un elemento oppure invece dell'indice l'elemento che deve essere rimosso ovviamente oltre a questi metodi che sono quelli principali ci sono anche altri metodi ad esempio un metodo index of che mi permette di andare a recuperare quale l'indice di un elemento dato all'interno di una lista oppure last index of che sostanzialmente fa la stessa cosa ma partendo dal fondo della lista esiste un altro metodo che si chiama sublist che mi permette data la lista di andare a estrarre una sottolista dando i due indici di inizio e di fine all'interno della lista principale l'interfaccia lista ha delle classi che la implementano direttamente e che sono array list e linked list queste due classi utilizzano due tecniche diverse per andare a memorizzare gli elementi uno utilizza un array che poi può essere ridimensionato l'altro usa una lista linkata queste due classi hanno qualche piccola differenza ad esempio senza entrare nel dettaglio array list ha un costruttore che permette di specificare la capacità iniziale perché è ovvio che se questa classe si basa su un array io potrei voler specificare una dimensione iniziale dell'array invece di utilizzare quella di default per quanto riguarda la linked list io ho dei metodi add first add last get first get last remove first remove last perché questi metodi possono essere utilizzati in maniera molto efficiente all'interno di una lista linkata perché è molto facile andare a recuperare il primo o l'ultimo elemento e rimuoverli senza andare a interferire con gli altri elementi mentre invece se faccio l'operazione di rimozione del primo elemento all'interno di un array quello che succede è che tutti gli elementi dovrebbero essere spostati di una posizione per andare a occupare quella che è stata tolta come faccio a utilizzare le liste? lo posso fare tramite i metodi che abbiamo a disposizione all'interno di questa interfaccia ad esempio qui vediamo alcuni usi di una lista vi faccio notare tra l'altro che innanzitutto qui quando parliamo del riferimento L che punta alla lista stiamo utilizzando come tipo liste invece del nome della classe questo si fa perché normalmente in questo modo io posso tranquillamente in un futuro andare a modificare il tipo dell'oggetto che creo quindi passare ad esempio da una array list a una linked list lasciando intatto la dichiarazione L e tutto l'uso perché a questo punto tutto il corpo del metodo farà riferimento a L di tipo list e quindi che sia una array list che sia una linked list non importa tutti gli accessi passeranno attraverso l'interfaccia che entrambe implementano quello che possiamo fare è ovviamente fare un'operazione di add esattamente come faremmo una collezione e quindi questo aggiunge un nuovo elemento nella prima posizione possiamo fare un'operazione di add andando a specificare un indice in questo caso l'elemento che ragionevolmente si trovava già in quella posizione viene spostato in avanti per cui se inseriamo 42 che andrà messo nella posizione 0 aggiungendo 13 42 verrà spostato in avanti in una posizione finale nella posizione 1 l'operazione di set invece cosa fa? non aggiunge l'elemento ma rimpiazza l'elemento eventualmente già presente per cui l'elemento che si trova in posizione 0 viene sostituito con 20 l'elemento era 13 quindi 13 viene sostituito da 20 e poi c'è l'operazione di get che permette di specificare un indice e restituisce l'elemento che si trova a quell'indice attenzione che l'operazione di add con un indice funziona soltanto se l'indice si trova nell'intervallo corretto o eventualmente nel primo indice vuoto all'interno della nostra lista altrimenti avendo qui soltanto due elementi inseriti se cerco di inserire un elemento in posizione 9 visto che gli elementi che vanno dalla posizione 2 alla posizione 8 non ci sono non posso aggiungere un elemento perché non saprei che cosa mettere in quelli intermedi per cui viene lanciato una eccezione di index out of bounds exception oltre le liste abbiamo un'altra interfaccia che deriva dall'interfaccia collection che si chiama Q le code sostanzialmente permettono di mantenere gli elementi inseriti secondo un qualche ordine potrebbe essere l'ordine di inserimento e quindi in questo sono un po' simili alle liste oppure l'ordine di priorità quindi gli elementi vengono ordinati in base a un qualche criterio di ordinamento degli elementi stessi normalmente quando io ho a che fare con una lista esiste una posizione privilegiata in cui gli elementi vengono prelevati cioè il primo elemento della nostra lista e posso accedere a questi elementi tramite questi due metodi peak e poll il primo permette di andare a sbirciare cosa c'è in prima posizione ma l'elemento non lo elimina dalla coda mentre invece poll oltre a vedere che elemento c'è lo elimina lo toglie dalla testa della nostra coda le due classi che implementano le code sono linked list e priority queue la linked list implementa quel criterio che si chiama first in first out ovvero il primo elemento che aggiungo e anche il primo che vado a prelevare cioè quello che si troverà in testa alla mia coda mentre invece nel caso della priority queue viene utilizzato quello che è l'ordinamento degli elementi che può essere l'ordinamento naturale oppure un ordinamento dettato da un comparatore se questo viene passato al costruttore un esempio per capirci qui vado a definire due code di interi una FIFO che utilizza una linked list e un'altra che è una priority queue che utilizza la classe priority queue se io vado ad aggiungere in entrambi i casi 3, 1 e 2 quello che ottengo per la FIFO è che il primo elemento che inserisco, ovvero 3 sarà anche il primo che vado a recuperare tramite PIC o tramite POLICE preferite nel caso della priority queue invece il primo elemento che viene estratto è quello che è il primo nel nostro criterio di ordinamento non avendo specificato nessun parametro tipo comparatore nel costruttore della nostra priority queue viene utilizzato l'ordinamento naturale cioè verranno ordinati gli interi e quindi l'intero più piccolo è quello che sostanzialmente viene estratto la terza interfaccia che estende la classe, scusate, l'interfaccia collection di base è l'interfaccia set l'interfaccia set è una interfaccia un po' particolare perché non contiene nessun metodo in aggiunta a quelli già definiti in collection perché? Perché sostanzialmente i metodi sono quelli l'unico scopo che viene svolto dall'interfaccia set è uno scopo di andare a marcare le classi che la implementano come classi che vanno a garantire che gli elementi al loro interno non contengono duplicati per cui dati i due elementi e uno e due che si trovano all'interno della nostra collezione non sarà mai possibile che uno è uguale ai due se questo succede quando cerchiamo di aggiungere un nuovo elemento questo verrà scartato una sotto interfaccia di set è l'interfaccia sorted set che di nuovo non ha elementi duplicati ma mantiene gli elementi in un certo ordine l'ordine può essere definito come un ordinamento naturale quindi tra l'interfaccia comparable oppure passando un comparatore al costruttore della classe che implementa sorted set a questo punto quando io vado a scandire gli elementi questi verranno visitati in ordine nell'ordine che viene specificato o dall'ordinamento naturale oppure dal comparatore che io passo al costruttore essendoci un ordine i metodi first e last mi danno il primo e l'ultimo elemento tenete presente che first e last hanno senso su un insieme perché su un insieme ordinato ma non su una lista perché in una lista io potrei avere due elementi che sono assolutamente identici e quindi potrei avere dei dubbi su quello che è l'elemento più piccolo mentre invece in questo caso primo e ultimo sono chiaramente identificati e ce n'è uno solo le classi che implementano l'interfaccia set sono hash set che implementa direttamente set linked hash set che estende hash set e mantiene un ordine che è l'ordine di inserimento degli elementi e poi tri set che implementa sorted set e quindi mantiene gli elementi ordinati attenzione quando utilizziamo gli set ordinati in particolare tri set perché ovviamente quando andiamo a mettere gli elementi in un insieme ordinato ci aspettiamo che questi elementi siano ordinabili e quindi è necessario che questi elementi abbiano un ordinamento naturale oppure che sia fornito un comparatore che è in grado di definire un ordine tra questi elementi quindi se utilizzo le classi predefinite ad esempio string o integer o qualunque classe wrapper questa caratteristica è già garantita perché tutti implementano l'interfaccia comparable se voglio andare a mettere dentro un insieme ordinato elementi di una mia classe devo garantire che la mia classe implementi comparable oppure fornire un comparatore che sia in grado di dirmi qual è l'ordinamento da mantenere all'interno dell'insieme prima di passare a vedere i contenitori associativi facciamo una piccola parentesi su quelli che sono gli iteratori di cui abbiamo già parlato brevemente quando abbiamo affrontato il tema dell'ereditarietà vedendo gli iteratori come un caso particolare di uso dell'ereditarietà l'interfaccia iterable è un'interfaccia che è alla base di tutte le nostre interfacce che rappresentano contenitori di gruppo ed è un'interfaccia che fornisce un unico metodo iterator quindi tutte queste classi sono iterabili quindi ovvero possono essere scandite tramite un iteratore quindi gli iteratori che cosa sono? sono un meccanismo che ci permette di tenere traccia della posizione in cui siamo durante la scansione degli elementi di un contenitore e permettono di andare a vedere l'elemento successivo gli iteratori sono indipendenti per cui io posso utilizzare più iteratori su una stessa collezione per andare a fare più scansioni indipendenti quindi immaginiamo di voler andare a mostrare tutte le possibili coppie di elementi di una collezione ecco in questo caso ho la necessità di andare a utilizzare due iteratori i metodi dell'interfaccia iterator ovvero l'oggetto che viene restituito dal metodo iterator sono sostanzialmente il metodo esnext che mi dice se c'è un prossimo elemento su cui iterare next che per l'appunto mi dà quell'elemento e avanza di una posizione ed eventualmente il metodo remove che mi permette di andare a cancellare l'elemento corrente se vogliamo utilizzare un iteratore per andare a scandire gli elementi cosa faccio? a partire da un oggetto che implementa un'interfaccia iterable qui c'è l'esempio della linked list ma in realtà qualunque classe del nostro frame o delle collezioni implementa iterable vado a definire un iteratore utilizzando il metodo iterator chiamo il metodo esnext e poi per avanzare il metodo esnext per verificare se c'è un prossimo elemento su cui iterare e per avanzare utilizzo il metodo next quindi in questo modo vado a prelevare tutti gli elementi l'uno dopo l'altro finché non c'è più un prossimo elemento ovvero sono arrivato alla fine della mia iterazione e ho elaborato, analizzato tutti gli elementi che stanno all'interno della mia collezione abbiamo visto che il costrutto for each quindi con i due punti permette di andare a scandire tutti gli elementi di una qualunque classe che implementi iterable quindi l'interfaccia iterable e la sua interfaccia collegata iterator sono utilizzate in maniera trasparente tramite il costrutto for each oltre a questo costrutto c'è anche all'interno dell'interfaccia iterable un metodo di default quindi sostanzialmente la cui implementazione è già data che si chiama for each e che accetta come parametro un consumer se ricordate il consumer è una di quelle interfacce funzionali che permettono di accedere a un elemento facendo qualcosa non restituisce nulla quindi l'unico metodo di consumer si chiama accept e accetta un oggetto di tipo T ma non restituisce nulla quindi restituisce void per cui ad esempio volendo andare a stampare tutti gli elementi che stanno all'interno di una collezione che implementa iterable io posso fare la mia collezione punto for each e poi vado a mettere un oggetto di tipo consumer in questo caso utilizzo una lambda che mi prende un elemento P e chiama system out println quindi in questo modo in pratica stampo quello che è il contenuto di ogni elemento vedete che questa scrittura è decisamente compatta e permette di andare a fare operazioni abbastanza complicate possiamo confrontarla con quella che vediamo prima dove c'è un for questa è un po' più lunga perché mi richiede di andare a dichiarare il tipo della variabile P ma per il resto sono sostanzialmente analoghe il vantaggio dell'altra è che io posso utilizzare delle funzioni di tipo lambda che sono decisamente compatte la seconda grande famiglia di interfacce e classi dichiarata all'interno del nostro framework delle collezioni è quella dei contenitori associativi l'interfaccia fondamentale che troviamo in questo gruppo è l'interfaccia map map rappresenta l'interfaccia che devono implementare tutte le classi che realizzano dei contenitori che permettono di associare chiavi a valori ad esempio il codice fiscale a una persona sia le chiavi che i valori ovviamente sono oggetti quindi non posso utilizzare dei tipi primitivi un aspetto fondamentale da ricordare quando dobbiamo utilizzare una mappa è che le chiavi devono essere uniche ovvero data una chiave esiste un unico valore corrispondente a quella chiave se ho più chiavi duplicate allora non posso utilizzare una mappa o comunque non la posso utilizzare direttamente anche in questo caso esistono dei costruttori raccomandati per le classi che implementano la map che sono un costruttore vuoto che crea una mappa vuota e un costruttore che riceve un'altra mappa che sostanzialmente permette di andare a popolare la mappa che stiamo costruendo con le coppie chiavi valori prese da una mappa già esistente i metodi principali presenti all'interno della classe dell'interfaccia map sono put e get put permette di andare a mettere una coppia chiave valore all'interno della mappa get permette di specificare una chiave e di ottenere un valore posso utilizzare il metodo contains key per andare a verificare se una certa chiave è presente nella mappa ovviamente posso andare a rimuovere una certa chiave e il suo valore associato e poi posso andare ad accedere all'insieme delle chiavi o all'insieme dei valori tramite keyset e values attenzione map non estende collection o iterable quindi io non posso andare a iterare su una mappa quello che posso fare è andare a iterare sull'insieme delle chiavi o sulla collezione dei valori anche perché dovendo andare a iterare su una mappa non saprei se iterare sull'uno o sull'altro quindi non esiste un iteratore sulle mappe ma quello che posso fare è andare a prendere l'insieme delle chiavi o la collezione dei valori e andare a fare un'iterazione su di esse ovviamente esistono anche i metodi size is empty e clear che permettono di andare a verificare la dimensione della mappa ovvero quante chiavi ci sono i valori sono uguali essendo un'identificazione univoca verificare se è vuota e andare a svuotare la nostra mappa un esempio di uso delle mappe lo vediamo in questo frammento di codice dove abbiamo una mappa di stringhe e persone il primo parametro è il tipo della chiave e il secondo è il tipo del valore quindi people permette di associare una stringa a una persona dove la stringa ragionevolmente sarà il suo codice fiscale il metodo put mi permette di andare a mettere la chiave e il valore chiave e valore quindi in questo modo associo tante chiavi con i relativi valori e quindi successivamente posso andare a verificare se una certa chiave è presente all'interno della mappa e utilizzare il metodo get che ricevendo una chiave restituisce il valore corrispondente ovviamente posso anche sapere quante sono le chiavi presenti all'interno della nostra mappa come vi dicevo non posso andare a iterare direttamente su una mappa perché sono delle coppie chiavi e valori quello che posso fare è andare a prendere la collezione con tutti i valori tramite il metodo values e andare a iterare su questa collezione oppure l'insieme che contiene le chiavi e andare a iterare su questo insieme vi faccio notare che i due metodi keyset e values restituiscono rispettivamente un insieme e una collezione perché? perché per l'appunto le chiavi hanno la caratteristica di essere uniche e quindi andando a dichiarare che il tipo di ritorno di keyset è un insieme stiamo sostanzialmente garantendo a chi utilizza questo metodo che all'interno di quel contenitore non ci saranno duplicati per quanto riguarda i valori invece qui non è garantita l'unicità quindi ad esempio è possibile che due chiavi distinte puntino o facciano riferimento allo stesso valore e quindi qui viene restituita una collezione una interfaccia che estende l'interfaccia map è l'interfaccia sorted map che sostanzialmente fornisce un ordinamento degli elementi memorizzati all'interno della mia mappa tramite l'ordinamento naturale oppure tramite un comparatore che viene passato al costruttore le implementazioni dell'interfaccia map sono principalmente tre hash map che non è ordinata linked hash map che mantiene l'ordine di inserimento quindi gli elementi oltre ad essere inseriti all'interno della mappa vengono inseriti in una linked list e quindi l'ordine delle chiavi viene mantenuto e poi tre map che invece ordina le chiavi man mano che vengono inserite all'interno della mappa e quindi quando vado a vedere l'insieme delle chiavi oppure vado a vedere i valori me li ritrovo ordinati in base alla chiave un'ultima interfaccia che è definita all'interno del nostro framework delle collezioni è l'interfaccia optional l'interfaccia optional serve per rispondere a quello che è un problema abbastanza diffuso all'interno dei linguaggi di programmazione ad oggetti ovvero quello che si chiama il problema della nullabilità molto spesso quando andiamo a utilizzare delle funzioni dei metodi in Java ma in tanti altri linguaggi di programmazione esiste la convenzione che un metodo in assenza di un risultato ci restituisca null è ovvio che se un metodo può restituire null io devo fare attenzione quando lo chiamo e andare a controllare il risultato prima di utilizzarlo altrimenti quello che ottengo è ovviamente una null pointer exception quindi in generale quando io utilizzo questa convenzione di restituire null in assenza di risultato sto obbligando il chiamante a fare un controllo aggiuntivo e se questo controllo non viene fatto a rischio di avere un null pointer exception quindi c'è la possibilità di andare a non far funzionare il programma correttamente se non vengono fatti i controlli opportuni per questo motivo è stata introdotta la classe optional che rappresenta per l'appunto la presenza di un potenziale valore sostanzialmente optional che cos'è? è una classe che può contenere un unico valore essendo optional generica di tipo t e per accedere al valore contenuto al suo interno devo utilizzare dei metodi specifici che mi permettono di andare a verificare se il risultato è nullo o meno e mi forzano a fare un controllo in particolare i metodi che sono definiti nella classe optional sono isPresent quindi mi permette di andare a verificare se c'è un valore oppure se il contenuto è nullo ifPresent che sostanzialmente mi dice se l'elemento è presente allora ti passa un consumer che verrà eseguito e a cui passerai il valore il metodo get che restituisce un valore se è presente altrimenti lancia un'eccezione or else che mi dice dammi il valore contenuto all'interno dell'optional oppure questo valore di default e esiste l'altra variante di or else in cui invece di avere un valore costante predefinito ho un supplier qual è il vantaggio di questa seconda variante del metodo or else è che se immaginiamo di avere un optional che eventualmente è nullo e questo optional contiene dei valori che sono potenzialmente complicati invece di andare a definire comunque un valore che magari non verrà restituito il valore di default viene costruito dal supplier se e soltanto se è necessario ovvero se l'optional è vuoto e quindi invece di restituire il valore viene restituito ciò che fornisce il nostro supplier per andare a costruire un optional io posso utilizzare il metodo of a cui passo un oggetto e questo viene incapsulato all'interno dell'optional attenzione che of lancia un'eccezione se il valore che cerco di passare è nullo oppure utilizzo il metodo of nullable che mi permette di creare un optional ed eventualmente un optional vuoto se invece voglio creare un optional vuoto utilizzo il metodo empty che mi restituisce per l'appunto un oggetto optional che è vuoto ragionavamente sarà sempre lo stesso tutta questa serie di metodi ad esempio il fatto di dover chiamare get per ottenere il risultato o il fatto di chiamare of oppure empty in pratica forza chi sta utilizzando oggetti di tipo optional a prestare attenzione aggiuntive nell'andare a manipolare i valori di ritorno sia all'interno del metodo nel restituirli sia una volta che ho ricevuto questi metodi quindi sostanzialmente è una specie di salvaguardia aggiuntiva che permette di andare a dare un avvertimento e quindi forzare a fare un'operazione in più ad esempio chiamare il get invece di utilizzare direttamente il valore di ritorno quindi è una complicazione in più che però dovrebbe andare a risparmiare una serie di errori che sostanzialmente possono condurre a null pointer exception a questo punto non ci resta che andare a capire in pratica come possiamo andare a utilizzare le nostre interfacce e classi che sono definite all'interno della framework delle collezioni ma di questo parliamo nella prossima lezione a questo punto non ci resta l'interno